nananananananananananananana poi parte il rock ciao Vox sono Clara e oggi proverò alcuni look che porterò a Sanremo con me venite ciao ciao buongiorno sei pronta? eh eh sì Guarda qua. Loro sono pronti per me, sembrerebbe. Vedo lo sparkling, sparkling, ovunque. Vabbè, diamanti grezzi. È una collezione di privé del 2011, Spring Summer. Abbiamo aggiunto questi stress per la storytelling di diamanti grezzi. Mamma mia, questo è il mio preferito. Poi lo spacco qua dietro. A me serviva un vestito che comunque arrivasse fino in fondo, no? Seguisse la mia silhouette, ma allo stesso tempo mi lasciasse libera di muovermi. Proviamo. Allora, è venuta assieme! Sono esterefatta. È un'opera d'arte. Bellissimo. Poi avrò i capelli legati. La scorsa volta che l'abbiamo visto, ho pensato che fosse perfetto per diamanti grezzi, sia per la ripresa di questi diamantini. E poi mi piaceva molto questo, che si aprisse qua. Lo trovo molto elegante, adatto a Sanremo. Bellissimo. Cos'è sempre per dare un omaggio alla mamma? È di classe. Mamma, è di classe. È sempre una sirenetta. Penso che optarò per il capello raccolto e un trucco pulito così. Bisogna aggiungere delle perline qui. Sì, però piccoline. Piccole. Io l'ho scelto, lo voglio mettere la prima sera che canterò al teatro Ariston. Spero mi porti fortuna. Poi, raga, queste sono le prove, queste sono le prove di come la canterò. Scendo la scala. Poi parte il rock. Le prove con l'orchestra sono state magiche. Mi sono venuti i brividi la prima volta che ho sentito i violini iniziali partire per Diamanti Grezzi. È stato bellissimo. Te l'hanno detto che io devo metterlo all'ultimo proprio, prima di essere sul palco. Quindi io all'Aristo mi presento in tuta. Diranno, ma lei non deveva cantare, poi metterò questo. Io avevo già in mente il tema da trattare. Pensavo che l'immagine che potesse descrivere tutti noi, con le nostre fragilità, la riscoperta di noi stessi ogni giorno, fosse un diamante, ma grezzo. Quindi non perfetto, ma in continua lavorazione. Quindi, quando sono entrata in studio, avevo già quest'idea e ho detto ai ragazzi, facciamo una canzone e chiamiamola Diamanti Grezzi. Diamanti Grezzi, il titolo della canzone, e diamanti anche sul tuo corpo. Non troppo grezzi. No, esatto, in questo caso non grezzi. Ci sarà anche una festa, quindi ora proviamo il look per la festa. la schiena è... wow, bellissimo che si vede. Sì. Wow! Bellissimo. 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 Decolte classica. Sesso tessuto. Bellissimo. Top. Mi sono appena svegliata ragazzi, scusate. Mi sono svegliata e ho messo la prima cosa che mi capitava nell'armadio tra le mani. Boom! Ci troviamo molto bene perché ci conosciamo bene. Io conosco bene i suoi gusti, lui conosce bene i miei. Non sempre sono uguali, a volte discutiamo, ma è normale. Però questa volta devo dire che eravamo proprio sulla stessa lunghezza donna. Infatti l'abbiamo trovato alla prima botta. Alla prima botta? E' stato un colpo di fulmine anche perché sapevamo esattamente... Dove volevamo andare. Sì. Quello che stavamo cercando. Sì. Quello che stavamo cercando in qualche maniera. Sì. Quindi adesso il next step è... Andare a Sanremo. Esatto. Che ansia. Sì. Ok Vogue, spero che i look vi siano piaciuti, spero che vi siete divertiti e che dire, ci vediamo a Sanremo. Un bacio. Un bacio. Grazie a tutti.